C'è un muro che, anziché dividere, unisce i giovani di tutti i colori, letteralmente. È quello dei giardini di padre Gerardo, in Viaggerelli a Piacenza. Qui, grazie a un graffito dal forte valore simbolico, Charlotte, Sara, Mohamed, Falou, Melissa e altri piccoli omini stilizzati si danno la mano. Nei giorni scorsi, però, a sfregiare il tutto è spuntata una bestemmia scritta con lo spray nero a caratteri cubitali. Don Alfonso Lukocchi, parroco di San Savino e guida spirituale della zona, è intervenuto per denunciare l'accaduto. Qualcuno può dire che è una stupidità, perché ormai lo vediamo dappertutto. Va bene, è stupidità, però non è giusto. Un posto così pubblico, un posto dove i nostri bambini vengono, dobbiamo essere noi adulti a curare, aiutare i nostri bambini a vivere nei posti puliti. Secondo il prete congolese, non si tratta solo di una grave offesa a chi crede in Dio, ma anche di un'azione che deturpa i valori di fraternità del quartiere Roma. Nel nostro quartiere in cui siamo tutti insieme, c'è questa unità nella diversità, c'è un cammino, stiamo andando verso questo mondo. Don Lukocchi avanza una richiesta precisa all'amministrazione comunale. A sistemarlo, a pulirlo bene e anche a dire a tutti i cittadini che dobbiamo prendere cura delle nostre cose belle. Se noi non lo prendiamo cura, chi viene fuori viene solo a distruggere. Grazie. 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 Grazie.